Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta frolla all'olio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, un uovo e un tuorlo, la scorza di limone, olio di semi d'arachidi, lievito per dolci e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone ed azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. Iniziamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la farina, l'uovo e il tuorlo, il lievito, l'olio e il pizzico di sale. Ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgerla nella pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la frolla dal frigo che è pronta per essere lavorata. Frolla all'olio, si conserva in frigo per tre giorni o in cangelatore per due mesi, ideale per crostate o biscotti. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!